Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo molti dei discepoli di Gesù dopo aver ascoltato dissero Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita Ma tra voi vi sono alcuni che non credono Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano E chi era colui che lo avrebbe tradito E diceva Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro E non andavano più con lui Disse allora Gesù ai dodici Volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio Parola del Signore Siamo alla fine del grande discorso del pane della vita Abbiamo saltato l'ultima parte per la coincidenza con la festa dell'Assunta In cui Gesù ha rivelato proprio in maniera esplicita Che il pane della vita è la sua carne che va mangiata È il suo sangue che va bevuto Davanti a questa rivelazione così sconcertante La reazione di molti discepoli di Gesù Veramente tanti È questa parola è dura Chi può ascoltarla? Cioè è difficile da capire Non si capisce E non andavano più con lui E allora la crisi è così profonda Che Gesù dice addirittura ai dodici Volete andarvene anche voi? Quindi non erano rimasti in tanti Erano rimasti veramente in pochi Ma Gesù non torna indietro Non dice ragazzi scusate mi spiegherò meglio Ma chiede fiducia sulle sue parole E questa fiducia la esprime Pietro Con questa bellissima risposta Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna Ecco probabilmente neanche loro hanno capito Lì in quel momento il senso profondo delle parole di Gesù Ma si sono fidati Hanno intuito che in quelle parole c'è una vita diversa C'è una dimensione più profonda Che non coglievano in quel momento Ci vorrà tutta la Pasqua Ci vorrà lo Spirito Santo della Pentecoste Ci vorrà l'esperienza della vita della Chiesa Ma dando fiducia a Gesù Noi abbiamo creduto e conosciuto Dice sempre Pietro Che tu sei il Santo di Dio Tu sei l'Inviato di Dio Tu sei colui che ci dice parole nuove Parole diverse che non avevamo mai sentito Ecco è molto interessante E' molto così anche sconvolgente Che questa crisi Gli esperti chiamano la crisi galilaica Perché avviene in Galilea A Cafarnao Ecco Avvenga proprio sull'Eucaristia Oggi noi assistiamo Per esempio a una Grande abbandono dell'Eucaristia Domenicale nelle nostre Chiese Forse per il Covid Ma anche perché le nuove generazioni Fanno fatica Ad accogliere Apprezzare A capire E a vivere la Messa E' proprio sull'Eucaristia Forse che giochiamo La nostra credibilità di Chiesa Perché l'Eucaristia Non è un particolare Non è una devozione Come Non so Dire Rosario Santa Rita L'Eucaristia E' il cuore Della vita Della Chiesa Perché è Gesù Perché è Gesù che si dona Chi mangia la mia carne E beve il mio sangue Ha la vita eterna Non avrà Ce l'ha adesso La vita eterna E io lo risusciterò Nell'ultimo giorno E' un nutrimento Indispensabile Alla vita cristiana Ecco ma La nostra Eucaristia Queste parole di vita eterna Che ci vengono dette Come la viviamo Come la testimoniamo Come la celebriamo Prima di tutto Nelle nostre chiese Ecco sta a tutti noi credenti Cercare di viverla Sempre più in profondità E sempre meglio E' famosa La frase di Nietzsche Il filosofo tedesco Che parlando dei cristiani Va bene Lui aveva Probabilmente davanti agli occhi I protestanti Ma sempre cristiani sono Diceva Mi dicono che vanno A celebrare un risorto Uno che è risorto La domenica Ma quando io guardo Le facce di quelli Che escono dalle chiese Non mi sembra Di vedere gente Che ha incontrato Un risorto Ecco perché Proprio la nostra faccia Il nostro volto Il nostro stile Cioè il nostro stile Di vita Il nostro modo di essere Che farà intuire Che farà intuire a chi non viene L'importanza decisiva Dell'Eucaristia Fidandoci delle parole di Gesù Fidandoci di quell'invito Chi mangia la mia carne Beve il mio sangue Alla vita eterna Venite a mangiare Ecco il Signore ci aspetta Nell'Eucaristia E lì si decide anche La nostra adesione O meno A Lui Il nostro Sì Totale Il nostro desiderio Di seguirlo Noi abbiamo Creduto e conosciuto Che tu sei Il Santo di Dio